Sareta, ti ho dato tre baci e sono arrivati due gol, però abbiamo vinto. Purtroppo ne sono arrivati tre di gol, uno anche alla loro parte. Hai notato? Allora mi hanno mandato a fare le foto nei distinti, straordinari insieme a Blasi, pubblico fantastico. Ma visto l'andazzo ho detto scusate, io torno al mio posto perché perdevamo 1-0 e grazie al Signore abbiamo vinto anche oggi. Insomma da Pavoletti a Zecco i tre punti sono perfetti. Non fa rima, Ferretti è da Pavoletti a Zecco. I tre punti sono perfetti. Il punteggio è perfetto. Il punteggio è perfetto, così fa rima, meno male che c'è stato. Come hai visto la partita? No, noi siamo forti. Sono contenta perché c'è un grande gruppo e lottano e a me piace vedere un gruppo, un sport, quindi un grande Varese. Ho il mister straordinario, fantastico. Ti ho visto in effetti l'altra sera che scambiavate gli oggetti di fortuna, è vero? Sì, no, detto così, dopo la partita l'altra sera perché abbiamo giocato di sera, se no sembrava che ci vedessimo io e il mister fuori orario partita. Non è vero, non è vero. Vetti i nostri oggetti di fortuna, vogliamo vederli? Vediamo. Aspetta, però io ho mostrato il mio e il mister ha mostrato il suo. C'è sempre il cielo da ringraziare. Senti, si va a Padova e insomma tu Padova ci vai perché so che si è legata anche a Sant'Antonio da Padova. In realtà non ci sarò a Padova perché no, non possono esserci, però confidiamo, ci speriamo. Sono bianchi e rossi anche loro. Un saluto e un bacio per Padova. Allora un saluto grande, un bacio in bocca al lupo che crepi il lupo.